Ebbene, è molto strano che un sindaco che ha la responsabilità di avere una spada come una faccia delle accuse. Le cose sono giuste e però saranno nobili con noi e inesivo con le cose con gli areti. Questo è un minimo di prospetto. Noi non lo accettiamo, non lo accettiamo e non lo accetteremo mai. Prende il sindaco che ha la responsabilità più alta della città di Gazzone, fa le continuazioni, fa capire veratamente di essere dada, rigazzata, minacciata e non fai uomini, e non fai uomini, è un attivo e un fatto bene. Caro sindaco, che è un consiglio di far, che parte di cui un consiglio è un amico, è un posto di loro. Noi non sono, non sono stati, perché non è un amico, non è un amico, non è un amico, il piacere di non essere, la fronte di 4 dei 20 che hanno scritto. E io potrei capire una cosa, ma tu si, se non è un consiglio di cui un consiglio, perché nello il consiglio della città. Grazie 4 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.